Non va il tiro dell'ex giocatore di Latina e San Giorgesi, allora la penetrazione dall'altra parte di Re Canati, il canestro di Sykes, allora possono volare in campo i peluche per questa iniziativa di beneficenza, subito si ricopre il parquet del Palaborsani. Adesso lo stoppa. I peluche vengono raccolti e consegnati in modo ai bambini e ricoverati presso gli ospedali pediatrici del territorio. Un applauso a tutti voi che li avete portati, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.